Noi beviamo caffè. Arrivano al ristorante. Il loro elefante... Loro sono. Voi siete. Cosa? Noi mangiamo caramelle. Cosa è? Cosa bevono gli uomini? Cosa bevono gli uomini? Dicono. Dicono. Beviamo dai bicchieri verdi. Nonostante leggete senza donna Zou. Dal sul elefanti, farfalla, manzo, tranne vostre. Chi viene allo zoo? No, dolce, dalla miei acido. Cosa cucino per lei? Beviamo dai bicchieri verdi. Grazie. Dal farfalla, pollo, sua, dalle, ai, sullo. Vanno allo zoo dopo pranzo. Day. Andiamo fino al ristorante. Tigre. Torte. Quanti? Hai da... Il cameriere aspetta fino a cena. Carne. Coltello. Uomini. Della. De. Dalle. De. Della. Due. Co' Della. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bevo. Caffè. Dopo. Cena. Libri. Cibo. Dagli. Suo. Dei. Chi viene allo zoo? Uccello. Bistecca. Ragazzo. Del. Mangio della frutta. Vengo. Zoo. Andiamo fino al ristorante. Il. Coltè. Zuc. Ins. Entro. Il. Cameriere. Aspetta. A. Cena. Chi viene allo zoo? 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 Chi viene